tutto pronto appena cominciato il match tra ragazzi degli AS Ord e il Real Davino vediamo questo match che emozioni ci regalerà buon calcio vai criminal criminal angolo il barcellone mazzaro io ho messo il nome è Walter i ragazzi di Walter Mazzaro e io ti ho aggiunto solo le 4 o non lo sapevo io lo sapevo io che ci stava 6 e 7 poi tu mi hai detto che anche 4 perciò ho chiesto 3 video è perché un sopredino qua benissimo no no sto col motorino andiamo calmi ti ho fissato il palo non ti preoccupare ho fatto Mario sento puzzi di venata dentro uguale vengo col fullman ti sciego ti sciego allora seguo il passaggio e l'ins allora sono due cose se sono tu che sei li porto io perché il venerdì contattalo stesso tu domani tanto alla fine la rotonda è la rotonda di Cirena è di Cirena di Cirena foro collana ah ma poi mi piace il raccordo si si allunga un po' poi a quell'ora ci stanno giocando oh ma Davino che il giocatore è? perché non significa niente perché se lui se una partita se una partita eh una cosa sbaglia e deve ringraziare che le squadre non si lamentano cioè una squadra paga tutto l'altra squadra è finta angolo non si fa il video una squadra 48 l'altra 0 e ci fa il video dall'altro lato marra 48 quell'altra squadra 30 non si fa il video e anche qua è sbagliato però no non è sbagliato perché guarda la protesta non capisce che le foto sono una cosa fondamentale perché la gente mette le immagini invece no è stato saggio vedi eeeh sì no è no è No, 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 no e non riesci a trovare alternative